Il canale Telegram è Unione di Pace, Chiocciola Unione di Pace, la notizia la trovate anche altrove, naturalmente. Cosenza, ragazza 24enne, muore dopo vaccino moderna. Era sana, era sana. Ieri a Genova è morta una ragazza 18enne, Camilla Canepa, dopo dose AstraZeneca. Anche lei era sana. Ieri Camilla, oggi Alessia. Domani è una carneficina, è una carneficina, è una strage senza precedenti. I casi sono amplissimi. Sul mio modesto canale ne potete trovare una collezione paurosa e tutt'altro che completa comunque. E siamo solo agli affetti di breve termine. Iscrivetevi al mio canale.